9 alimenti con cui depurare il fegato Si tratta di uno degli organi principali di cui dobbiamo prenderci cura, motivo per cui una buona alimentazione è essenziale per depurare il fegato. Se avete problemi epatici o semplicemente desiderate prendervi cura della salute di questo organo, prendete nota degli alimenti che possono essere vostri alleati a questo scopo. Alimenti per depurare il fegato. Aglio. L'aglio è uno degli alimenti più sani che si possono trovare, in quanto oltre ad aiutare a eliminare le tossine, contiene molte sostanze salutari per il fegato. Tra esse in particolare il selenio, un minerale che migliora l'effetto degli antiossidanti sul nostro organismo. L'aglio. L'aglio è anche ricco di un aminoacido chiamato arginina, essenziale per il rilassamento dei vasi sanguigni e, quindi, per ridurre la pressione che finisce per essere esercitata sul fegato. Come se ciò non bastasse, l'aglio è un alimento ricco di vitamina B6, che fornisce un effetto antinfiammatorio, e anche di vitamina C, la quale è responsabile di proteggere il corpo dall'ossidazione e dai danni cellulare. L'olio di oliva è un altro dei prodotti che fanno bene al fegato. Questo perché, se assunto con moderazione, fornisce una base di lipidi che aiutano ad assorbire le tossine nocive presenti nell'organismo, il quale può quindi mantenere il suo corretto funzionamento. Verdure a foglia verde. Le verdure a foglia verde, in generale, sono tutte ottime per depurare il fegato. Questi vegetali neutralizzano i metalli pesanti, così come i prodotti chimici e pesticidi che possono essere presenti negli alimenti. Non rinunciate alla possibilità di inserire nella vostra dieta alimenti come la rucola, gli spinaci o la cicoria. Questi faranno aumentare il flusso della birra e vi permetteranno di eliminare i rifiuti. Le foglie di barbabietola, inoltre, vi aiuteranno a purificare il sangue in modo naturale. In questo modo aumenterà l'efficienza del fegato. Il tè verde è ricco di antiossidanti, in particolare le catechine, le quali sono sostanze organiche del gruppo dei flavonoidi che proteggono l'organismo. Per godere dei suoi benefici, è sufficiente consumarne una tazza al giorno. Pompelmo. Il pompelmo è un frutto con un alto contenuto di vitamina C e glutatione. Il glutatione è coinvolto in numerosi processi all'interno dell'organismo come ad esempio il mantenimento e la riparazione dei tessuti, o la produzione di sostanze chimiche e proteine. Grazie a questa sostanza favoriamo anche il rafforzamento del sistema immunitario. Noci. Così come l'aglio, anche le noci sono ricche di arginina, ma anche di glutatione, acidi grassi omega 3, antiossidanti e grassi insaturi. Il glutatione e gli acidi grassi proteggono le funzioni disintossicanti del fegato. Gli antiossidanti e i grassi sani, da parte loro, sono protettori epatici. Mele. Le mele sono frutti ricchi di pettina, una sostanza necessaria per proteggere il corpo e rimuovere le tossine dal tratto digestivo. Grazie a questa sostanza, aiuterete il corpo a mantenere un corretto funzionamento del fegato e ne ridurrete il carico di tossine. Curcuma La curcuma ha una sostanza attiva chiamata curcumina. È un ottimo antiossidante e antiinfiammatorio. Promuove la produzione di bile, ne migliora il flusso e depura il fegato. Grazie alla curcuma, le cellule del fegato ringiovaniscono e le tossine e i composti nocivi, tra cui quelli degli alcolici, vengono neutralizzati. Per godere dei benefici di questa sostanza, la cosa migliore sarà introdurla nella vostra dieta. Iniziate ad aggiungere una piccola quantità di curcuma come spezia ai vostri piatti. Sia il limone che il lime sono agrumi ricchi di vitamine antiossidanti che favoriscono la depurazione dalle tossine. Bere succo di limone o di lime appena spremuto stimola la funzionalità epatica e ci aiuta a iniziare la giornata nel migliore dei modi. Bevetelo tutti i giorni a stomaco vuoto per depurare il fegato. Grazie a tutti.